Innanzitutto porto a tutti il saluto del Consiglio Nazionale della FIDE, che fin dai primi giorni di marzo, quando siamo stati travolti in questa situazione emergenziale, abbiamo cercato di dare risposte alle scuole e abbiamo visto che le risposte erano molteplici, a partire dall'ambito fiscale, normativo, lavoristico, però poi abbiamo focalizzato molto la nostra attenzione sull'aspetto della didattica, questa novità in cui ci siamo ritrovati e che tante nostre scuole hanno gestito in modo egregio. Io saluto perché anche a questo incontro sono presenti i docenti della scuola paritaria, ma anche i docenti della scuola statale, è questo importante, camminare insieme, camminare insieme perché questo ci può permettere effettivamente di guardare al futuro. Abbiamo, come dicevo, come FIDE dato delle risposte. Per quanto riguarda la didattica a distanza, fin da subito abbiamo implementato in rete, su uno spazio apposito, articoli, interviste, raccolte di storie di buone pratiche di scuola, per essere di supporto, di sostegno vicendevole. Abbiamo avviato un sondaggio per raccogliere quanto si faceva e si fa nelle scuole. Anche per un obiettivo, innanzitutto conoscere queste buone opportunità, dall'altra abbiamo visto che non è polemica questo, che spesso la scuola paritaria nei documenti e dimenticata. Allora anche raccogliere tutte queste buone pratiche, queste storie e anche per poter al più presto relazionare al Ministero quanto sta facendo anche la scuola paritaria e la scuola paritaria cattolica, insieme con tutte le scuole statali. Si sta rispondendo a un'emergenza. Tra le varie cose attivate sicuramente c'è anche quello che attraverso un sondaggio abbiamo raccolto esigenze delle scuole, abbiamo costituito una task force di docenti volontari a disposizione degli altri colleghi e attivati una serie di webinar. Oggi abbiamo il secondo webinar sulla valutazione. Abbiamo affidato questo tema a Dino Cristanini, innanzitutto e soprattutto un uomo appassionato della scuola e un esperto di sistemi formativi, già dirigente tecnico e direttore nazionale dell'Invalsi. Lo ringrazio per la sua disponibilità, per la sua attenzione, ma soprattutto per la sua chiarezza e la sua competenza. Io voglio augurarvi un buon lavoro. Prima di passare la parola al Dottor Cristanini chiedo al Dottor Maffeo della fila di dare alcune indicazioni di carattere tecnico. Dopo mezz'ora circa dell'avvio della relazione, possiamo in chat raccogliere le domande che poi invieremo al professore e alla fine saranno date delle risposte. Io vi auguro un buon pomeriggio e do la parola al Dottor Maffeo per gli aspetti più tecnici. Prego, grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti, salve Dottor Cristanini. Alcuni aspetti di tipo organizzativi rispetto al meeting, molto brevi e veloci. Il meeting per la sua stessa natura e per la numerosità dei partecipanti, perché siamo già circa 160 partecipanti, prevede il vostro intervento via chat. Avete la chat sulla destra in basso e vi pregherei di iniziare a formulare le domande a partire da metà relazione, dopo la prima mezz'ora per intenderci. Farei delle domande brevi, terrei conto delle domande che sono state già poste, in modo da poter coprire quanti più argomenti e tematiche possibili. Altro elemento importante, alla fine del seminario vi sarà inviato un'e-mail con la possibilità di dare il vostro livello di soddisfazione con un questionario, ma allo stesso tempo scaricare anche un attestato di partecipazione. Ultimo ma non ultimo, tutto quello che adesso voi seguirete in diretta sarà posto sul nostro sito, sul sito della FIDE registrate, compresi anche le slide. Per il resto poi vi auguro buon lavoro. Prego professore. Vado? Bene. Dovrò cominciare a correggere intanto la data sulle slide che ne ho messo quelle di domani. Dunque il titolo dato a questo webinar sintetizza tutta una serie di questioni che si sono poste in questo periodo sulla valutazione nella didattica a distanza, perché sono state evidenziate varie funzioni della valutazione, funzioni didattiche all'inizio, durante e al termine dell'azione didattica, quali sono le funzioni della valutazione. È un classico valutazione diagnostica, valutazione formativa, valutazione sommativa che tra un po' espanderò dovutamente. Ma in questo periodo è stata valorizzata anche la funzione relazionale, certo molto importante nel primo ciclo con bambini piccoli, ma che è importante anche con i ragazzi più grandi, quella del mantenere la continuità della relazione educativa, l'idea che la scuola continua, che la scuola c'è anche in questo momento. Tra l'altro sono gli slogan con cui diverse scuole hanno inaugurato comunicazioni con i loro hashtag oppure li hanno appesi nei manifesti al di fuori della scuola. Di questi tempi però ci si ricorda che la valutazione ha anche una funzione certificativa. Qualcuno certo stigmatizza questa idea del ricordare il voto in questa situazione, però insomma c'è nella normativa e ha anche un senso dal punto di vista didattico. Ecco, queste funzioni come possono essere attuate, quindi che cosa si può valutare, come valutare in funzione di questi perché. Quindi è il tipo di ragionamento che svilupperemo in una cinquantina o una sessantina di minuti, adesso vediamo come va. Didattica a distanza, io aggiungerei didattica a distanza in situazione di emergenza, perché un conto è una didattica a distanza che sia stata pensata apposta per questa funzione. Quindi esistono corsi di formazione di vario genere, corsi universitari, corsi di formazione per professionisti di vario genere che si basano sul principio della didattica a distanza e però sono appunto pensati per tempo e programmati a tal fine. Invece a scuola si è dovuta attuare la didattica a distanza improvvisamente e non tanto come situazione ordinaria quanto come situazione tampone in situazione di emergenza. Esistono poi tutta una serie di altre distinzioni che sono opportune. Quindi la didattica a distanza fa uso di strumenti digitali, che però magari conosciamo già come strumenti di supporto alla didattica in presenza. Certo non tutti, perché nella didattica in presenza spesso ci sono le lavagne interattive multimediali, però il computer, l'uso dello smartphone per mandare esercizi e ricevere risposte, questi strumenti spesso soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado già ci sono a supporto però della didattica in presenza. Didattica integrata è quella che Indire chiamava tempo fa didattica blended, una didattica che prevede momenti in presenza e momenti a distanza. Anche questa a volte ci può essere nei rapporti con gli studenti. Quando pensiamo alla modalità flipped, per cui si inviano dei materiali da approfondire a casa, mentre a scuola poi si fa discussione in laboratorio su quei materiali, sono tutte forme un po' conosciute. Però la situazione in cui ci troviamo oggi è molto diversa. Didattica a distanza in situazione di emergenza che tra l'altro cambia completamente il setting didattico. Poi dipende molto anche dal tipo di strumenti che si utilizzano, perché un conto è la didattica con video lezione in presenza, un conto è l'insegnante che non riesce a vedere gli studenti e anche quando li vede, li vede a uno a uno. Quando poi non li vede, abbiamo il lamento dell'insegnante che dice sono stufa di parlare dei quadratini colorati che sono ciò che stanno al posto degli studenti sul video. Quindi una situazione molto particolare, una situazione a cui siamo giunti improvvisamente tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Questo schema grafico ci fa capire esattamente qual è la situazione di questo anno scolastico. Un anno scolastico che per 5 ottavi o giù di lì, perché settembre non è stato pieno del tutto, è stato realizzato con la normale didattica in presenza. È una situazione poi che a fine trimestre o quadrimestre, a seconda della periodizzazione deliberata dal collegio dei docenti, ha visto una valutazione intermedia che è stata fatta con i normali criteri e con le normali valutazioni. Quindi fino a febbraio noi disponiamo di elementi di conoscenza circa la valutazione acquisiti in modalità normale. Nei tre mesi successivi invece si è dovuta attuare in modo più o meno improvvisato la didattica a distanza in situazione di emergenza ed è emerso il problema della valutazione in questa situazione, che però è emerso in due momenti distinti. Perché all'inizio, e comunque per buona parte del mese di marzo, si è ragionato, in genere si pensava che fosse possibile rientrare a scuola in tempi non lontanissimi, quindi che fosse una situazione così che sarebbe durata poco. E quindi sono nate tutta una serie di posizioni diversificate tra chi si è precipitato a dare continuità all'azione didattica, chi ha opposto badi e ragioni di contrarietà alla didattica a distanza magari pensando che di lì a un po' si sarebbe ripreso. In realtà adesso fine marzo, inizio aprile si è capito che la ripresa, il ritorno a scuola se ci sarà sarà abbastanza lontano ma che molto probabilmente non ci sarà. Anzi qualcuno già si pone il problema di dire ma a settembre sarà possibile riprendere normalmente o dovremo continuare con modalità a distanza oppure dovremo fare i turni per fare attività per semiclassi in modo da tenere distanziati gli studenti. Quindi insomma abbiamo capito che almeno per gli ultimi tre mesi di quest'anno si lavorerà in situazione di didattica a distanza e però a fine anno scuola, a fine delle lezioni ci sarà comunque una valutazione finale, anche se il decreto legge che abbiamo letto in bozza ci dice che tutti saranno comunque ammessi all'anno successivo o ammessi all'esame, una qualche forma di valutazione ci sarà. Quindi è cambiata un po' la prospettiva ed è probabile che adesso in questi due mesi o mese e mezzo che manca alla chiusura delle lezioni si farà più sistematica e anche un pochettino più strumentata, più supportata dall'esperienza precedente la didattica a distanza. Ecco questo per inquadrare un po' il periodo in cui ci troviamo a lavorare, per cui al di là della letteratura sulla didattica a distanza che è corposa e ha tutta una storia che è evoluta nel tempo dai primi corsi col cartaceo spedito per corrispondenza a corsi in tv fino all'attuale situazione che vede l'integrazione di una pluralità di mezzi e però è una didattica a distanza che adesso è stata attuata improvvisamente. Ora le funzioni della valutazione nel percorso curricolare come ragionamento base per impostare il ragionamento sulla valutazione nella didattica a distanza. Da quando in Italia è stato adottato l'approccio curricolare, quindi parlo di metà degli anni 70, sappiamo che la valutazione è una funzione che accompagna continuamente il percorso di insegnamento-apprendimento. Si valuta all'inizio per capire cosa sanno gli studenti, ormai lo sappiamo perché tutti fanno i test di ingresso con prove più o meno comuni per valutare la situazione iniziale. Magari bisognerebbe anche valutare come imparano proprio per capire quali approcci didattici possono essere efficaci. Centra la funzione diagnostica con la valutazione a distanza in situazione di emergenza? Centra perché il prossimo anno bisognerà programmare il recupero degli apprendimenti. Poi parleremo del recupero apprendimenti a proposito del decreto legge recentemente approvato, insomma approvato l'altro ieri dal Consiglio dei Ministri, che dobbiamo però ancora vedere nella sua versione definitiva. Qualche commentatore ha già osservato la differenza tra recupero delle insufficienze e recupero degli apprendimenti. Il recupero delle insufficienze riguarda quegli studenti che già nel corso del primo quadrimestre possono aver avuto delle insufficienze in qualche disciplina. Il recupero degli apprendimenti invece è una questione generalizzata, perché in questi tre mesi tutti hanno avuto una limitazione nella erogazione dell'insegnamento e quindi il recupero apprendimenti è una questione che riguarda la generalità degli studenti. Ma per impostare l'azione di recupero occorre fare il punto su cosa avranno imparato alla fine di questo anno scolastico. La funzione formativa è la funzione che finora le note ministeriali hanno enfatizzato in modo particolare, sostenendo che nell'ambito della didattica a distanza occorre prima di tutto attivare la funzione formativa. Ora, in letteratura noi abbiamo due interpretazioni della funzione formativa. La più antica è quella che è stata codificata alla fine degli anni Sessanta, quando Michael Skriven parlò di valutazione formativa, intendendo con questo una valutazione sistematica effettuata durante il percorso di insegnamento e apprendimento per capire se gli studenti stanno o meno imparando e quindi per ricavare da parte dell'insegnante le informazioni necessarie alle decisioni successive per capire se si può andare avanti perché hanno imparato o se è necessario cambiare approccio didattico perché gli studenti non hanno imparato col primo approccio utilizzato. Quindi una funzione di regolazione del percorso didattico. In tempi più recenti, invece, si è parlato molto di valutazione per l'apprendimento. Quindi la funzione formativa è stata intesa come feedback allo studente per restituirgli le informazioni necessarie a diventare consapevole della propria situazione riguardo all'apprendimento e soprattutto per dargli informazioni su come migliorare. Inoltre è stata anche evidenziata l'importanza della funzione proattiva, cioè della valutazione come valorizzazione dei progressi anche piccoli su cui far leva poi per motivare il recupero degli apprendimenti non ancora acquisiti. Quindi proattivo vuol dire non dare valutazioni tutte negative ma anche valorizzare quel poco o tanto che lo studente ha imparato per non far calare la motivazione e anzi per rafforzarla. Infine, la classica funzione sommativa che a un certo punto tira appunto le somme. Mi interrompo un attimo perché vedo nella chat che diversi continuano a non sentire. Quindi vado avanti o c'è qualche problema da risolvere? No, conviene andare avanti perché stiamo registrando, poi mettiamo tutto a disposizione. Perfetto, procede. Non è un problema generalizzato. Bene, fino alla fine di marzo sulla valutazione noi abbiamo assistito a una serie di prese di posizione. Ormai nei social sappiamo che un po' tutti scrivono e quindi possono rilevare molte opinioni. che qui ho riportato per fare il punto, insomma, molti pedagogisti e psicologi hanno sostenuto l'importanza di curare prima di tutto la didattica a distanza come contatto, come segno di vicinanza, come mantenimento di una relazione educativa. Questo sicuramente con gli alunni del primo ciclo, ma anche per il secondo ciclo, molti hanno ritenuto importante evidenziare questa funzione, questo segnale che c'è la vicinanza della scuola, che la scuola non si ferma, la scuola continua in un'altra forma, ma c'è la continuità. La nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020, poi, è stata ampiamente commentata nei suoi vari passaggi circa la valutazione. Questa nota ci dice che la valutazione è doverosa perché la valutazione non è qualcosa di diverso dalla didattica, ma la valutazione è didattica. In particolare, la valutazione formativa di cui ho appena parlato e di cui parlerò tra un po', nel passaggio in cui dice che se l'alunno non è subito, quindi tempestivamente, informato che ha sbagliato, su che cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione diventa quel rito sanzionatorio della scuola, insomma, un po' tribunalizia, che però non è quello che intendiamo con didattica efficace. Alla fine, però, ricorda la nota stessa, tutto questo è propedeutico alla valutazione finale e questo ha fatto moltissimo discutere, ovviamente, su tutta una serie di aspetti di legittimità o meno della valutazione finale. Procediamo quindi per gradi. Approfondimento sulla valutazione formativa e sul feedback. Il feedback che è stato individuato dalla ricerca di John Hattie come uno degli strumenti didattici più potenti. Ecco perché si dice valutazione formativa è didattica proprio, è uno strumento didattico. Forse molti avranno sentito parlare di John Hattie, che è uno studioso, un docente dell'Università di Melbourne, però ormai diventato famoso in tutto il mondo, è che è un po' il capofila di quel filone di ricerca chiamato evidence-based education, cioè attività di insegnamento. Sapete che education in inglese non è educazione come lo intendiamo noi, ma è piuttosto traducibile come istruzione, come insegnamento finalizzato all'istruzione. John Hattie ha dedicato 15 anni della sua vita a indagare, a esaminare le metà ricerche sulla valutazione o meglio sui rapporti tra approcci didattici e valutazione, ricavandone una serie di indicazioni su quali sono gli approcci didattici che consentono di ottenere migliori risultati di apprendimento. Tutto questo è pubblicato in un libro intitolato Visible Learning, ne ha parlato spesso anche Mario Comoglio, ma ormai ne parlano un po' tutti gli esperti di valutazione. Tra l'altro il libro è tradotto anche in italiano, pubblicato da Ericsson e questo che ho tracciato in questa slide è un elenco degli approcci che in base a questa ricerca sono considerati più efficaci, più capaci di far ottenere buoni risultati di apprendimento. Vedete che c'entra molto la valutazione formativa, il feedback, il promuovere di autovalutazione da parte degli allievi. Ecco, io ho tradotto le espressioni che usa Hetty, in realtà la traduzione letterale dall'inglese non sarebbe proprio così, ma ho cercato proprio di tradurre il senso degli insegnamenti di Hetty. Il feedback proprio è non è solo valutazione, è fare didattica. Ma cosa vuol dire dare un buon feedback? Dare un buon feedback vuol dire evidenziare gli aspetti positivi del lavoro, quindi utilizzare la funzione proattiva, poi evidenziare gli aspetti non soddisfacenti, ma non in chiave punitiva, in chiave depressiva, semplicemente spiegare cosa non va nella prova, nel lavoro, nella prestazione dello studente, spiegando le ragioni di tale giudizio. Quindi come dice la nota 388 in sostanza, spiegare se ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché si ritiene sbagliato quel che ha fatto e infine indicare cosa migliorare e come migliorare. A volte qualcuno evidenzia ha anche l'importanza dell'autocorrezione, cioè di indicare la prestazione ha delle lacune, ha delle manchevolezze e chiedere allo studente di autocorreggersi, anche se il feedback più efficace è quello che spiega anche come migliorare. Altre volte si chiede allo studente stesso di dare la caccia lui stesso agli errori che ha fatto. L'importante poi è che ci sia un feedback, un ritorno dell'informazione allo studente che non sia la semplice comunicazione del voto, ma che sia un giudizio che spiega tutte queste cose che ho appena detto. Tra l'altro in queste slide, in cui vado velocissimamente perché poi si potranno anche studiare autonomamente, alcuni esperti descrivono in forma ancora più analitica le condizioni di efficacia della valutazione formativa. Cosa si intende per valutazione formativa? Qual è un feedback forte e qual è invece un feedback soft che ha poca incidenza sulla didattica? Insomma, curare molto la valutazione formativa, dove per valutazione formativa intendiamo non solo all'antica la valutazione formativa come insegnante che valuta continuamente per capire come stanno andando e come regolare il processo. Importante questo, ma è molto importante anche e soprattutto poi il feedback che riceve lo studente. valutazione finale. Ecco, questa ha sollevato, come ho premesso, tutta una serie di interrogativi. Qualcuno dice, ma ha senso parlare di valutazione sommativa? O meglio, questo è stato detto molto in marzo, non so adesso se aprile e maggio continueranno tutti questi dubbi. All'inizio si è detto, ma insomma, volete preoccuparvi del voto quando gli studenti chissà come vivono emotivamente questa situazione inedita, situazioni di ansia per l'epidemia che non si sa come andrà a finire, famiglie che magari saranno molto preoccupate per la perdita del lavoro o comunque per problemi economici. famiglie che possono aver avuto dei componenti o dei parenti comunque colpiti dal virus o addirittura colpite da lutti. E poi, gli studenti che per cause che non dipendono da loro non riescono ad accedere alle proposte della didattica a distanza. Che valutazione dobbiamo fargli? E come possono essere attendibili gli esiti delle prove effettuate senza che sia possibile accertare se c'è tutta farina del sacco dello studente, se c'è o meno un aiuto esterno, se lo studente è andato a cercarsi mentre rispondeva alle risposte su Google? E infine, quale legittimità può avere la valutazione riferita a queste prove? Molti si chiedevano, ma dove sta scritto che bisogna fare la DAD? Se valutiamo uno in base a quanto fatto nella didattica a distanza e poi ci fanno causa, come va a finire? Bene, questi sono tutti interrogativi che sono nati nella prima fase. Adesso abbiamo qualche risposta in più, o almeno avremo dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì scorso, l'altro ieri, e di cui sono circolate finora le bozze, bozze attendibili, ma aspettiamo di vedere la versione definitiva. Intanto ragioniamo su quello che abbiamo. Il decreto prefigura due scenari. Il primo che viene giudicato abbastanza improbabile, ma comunque teoricamente anche possibile, ripeto, pur se altamente improbabile. Il secondo invece dato come più probabile. Nel primo caso di rientro alle attività in presenza entro il 18 maggio prossimo, ci potrebbe essere qualche settimana per un primo recupero degli apprendimenti, si potrebbero fare valutazioni in presenza, nonostante questo comunque è prevista una ordinanza ministeriale che inderoga alla normativa vigente, quindi inderoga per la scuola secondaria di secondo grado al DPR 122 del 2009, per il primo grado vale il 62 del 2017, per la scuola secondaria di secondo grado, per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, digi ancora il DPR 122 del 2009, quindi inderoga agli articoli che riguardano gli scrutini nel DPR 122 del 2009, è previsto che con un'ordinanza ministeriale si definiscano i requisiti di ammissione alla classe successiva. Questi requisiti di ammissione, non si sa come saranno, però il decreto legge stabilisce già dei criteri, dice che bisognerà considerare i risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, risultati che andranno quindi accertati, considerando però anche il processo formativo. Poi vediamo cosa può voler dire processo formativo. Se si rientra, l'esame di stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado avrebbe la prima prova definita a livello nazionale, come sempre, mentre la seconda prova sarebbe predisposta dalla singola commissione d'esame sulla base della programmazione effettivamente svolta. I componenti della commissione sarebbero tutti interni, a parte il Presidente che sarebbe esterno con funzioni di garanzia. Lo scenario più probabile, quello del non rientro entro il 18 maggio, prevede invece possibili scrutini finali in via telematica. Come nel caso precedente, la definizione con apposita l'ordinanza ministeriale dei requisiti di ammissione alla classe successiva e all'esame di stato, probabilmente, anche se non viene detto in modo esplicito, tutti saranno ammessi. Però l'ordinanza ministeriale ci dovrà dire come si verrà ammessi alla classe successiva e all'esame di stato. Nel senso che si può ammettere tutti col 6, si può prevedere una diversificazione dei voti solo sufficienti, si può prevedere una diversificazione anche con voti insufficienti. Poi, intanto l'anno prossimo, bisognerà fare il recupero degli apprendimenti. Tra l'altro, per la scuola secondaria di secondo grado, bisogna tener conto del fatto che la media dei voti contribuisce anche alla definizione del credito scolastico. Quindi, insomma, vedremo questa ordinanza ministeriale e cosa ci dirà. Certo, ripeto, punti fermi sono che andranno considerati risultati di apprendimento e il processo formativo. L'anno prossimo, a parte quelli che escono dalla quinta, si dovrà pensare al recupero degli apprendimenti, l'esame di stato sarebbe costituito solo da un colloquio, magari rafforzato rispetto a quanto previsto in via ordinaria dal DPR 62-2017 e poi dalle altre norme applicative. È prevista, tra l'altro, anche la revisione dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio. Questo è lo scenario. Quindi, uno scenario che si ripercuote sulla valutazione, che ha dei riflessi sulla valutazione per i due motivi anzidetti. Cioè che occorrerà acquisire elementi di conoscenza per esprimere questa valutazione finale. Occorrerà avere gli stessi elementi di conoscenza per programmare il recupero nel prossimo anno. E poi c'è un altro passaggio su cui già ho visto che ci sono tutta una serie di dibattiti. Un passaggio del decreto legge che dice che il personale docente, nei periodi di sospensione dell'attività in presenza, assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Quindi è un rafforzamento dell'idea che la didattica a distanza diventerebbe praticamente obbligatoria. Non prescrive forme specifiche, ma il decreto legge in questo modo esclude la possibilità di non far nulla, ma che una qualche forma di didattica a distanza va comunque realizzata. Su questo c'è molta discussione, ma procediamo oltre. Date queste premesse, alcune condizioni da tenere presente. La valutazione, dicono le norme di PR 122, ma anche il 62 e il 2017, la valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa e aggiunge l'ultimo decreto con la programmazione effettivamente svolta. Quindi è necessario rimodulare le progettazioni didattiche rispetto a quelle previste all'inizio d'anno per individuare quali siano gli obiettivi effettivamente perseguibili in questo periodo. Ovviamente è vero che molte scuole di secondo grado hanno mantenuto un orario scolastico normale anche con la DAD, però fare attività a distanza sappiamo che ha tutta una serie di problematiche in più rispetto alla ricchezza delle interazioni in presenza. Quindi si tratta di individuare nella progettazione curricolare ordinaria quali sono quegli apprendimenti fondamentali, essenziali, che possono essere ragionevolmente perseguiti a seconda del tipo di didattica a distanza attuata. I criteri di valutazione, ci dice lo statuto delle studentesse, degli studenti, ma anche altre norme seguenti, devono essere trasparenti. Quindi anche i criteri di valutazione devono essere riconsiderati alla luce di come nella scuola è stata impostata la didattica a distanza. Se vengono ritenuti compatibili quelli già deliberati a inizio d'anno, benissimo, altrimenti bisognerà fare una delibera di rimodulazione ad hoc. La valutazione finale comunque non si basa solo sugli esiti verificati negli ultimi tre mesi. È una sintesi che deve tener conto di una pluralità di elementi relativi all'intero percorso scolastico. In particolare quest'anno abbiamo le valutazioni effettuate nel primo trimestre o quadrimestre e comunque nei primi cinque mesi. Abbiamo le valutazioni effettuate nel periodo della didattica a distanza e abbiamo la partecipazione al processo formativo. Tra l'altro la partecipazione al processo formativo è una delle cose che secondo la normativa vengono tenute presenti anche per decidere se dare il voto o se dare il credito scolastico nella fascia alta o nella fascia bassa di ogni livello. Quindi cose che non è che non siamo abituati a valutare. La valutazione in itinere è necessaria per acquisire gli elementi su cui basare la valutazione finale e su cui basare la futura progettazione dei percorsi di recupero, certo va effettuata tenendo conto delle situazioni individuali. Quindi qui occorre molta sensibilità situazionale da parte di chi valuta. Qual è la situazione personale di ciascuno studente? Quali possibilità di accesso ha avuto alla DAD? Che tipo di partecipazione ha dimostrato in rapporto alle possibilità? Quindi non basta il talento individuale, ma occorre dimostrare anche di aver dato impegno, costanza alla partecipazione. Viceversa un alunno può avere difficoltà, ma magari molto legate anche alla disponibilità di strumenti, alla disponibilità di una connessione familiare particolarmente problematica anche a causa dell'epidemia. Quindi si tratta, senza violare la privacy, di cercare di capire qual è la situazione di ciascuno studente e di formulare la valutazione tenendo conto anche di questi elementi. Certo che con l'ammissione generalizzata la differenza sarà abbastanza interessante rispetto agli anni precedenti. Nel primo ciclo non tanto, perché già abbiamo visto che nella secondaria di primo grado in genere il 98% passa da una classe all'altra. Questi sono i dati invece su scrutini ed esami nella secondaria di secondo grado relativi allo scorso anno scolastico. Quindi come vedete in genere c'è una sospensione del giudizio per debito formativo, una percentuale di non ammessi un po' più elevata e quest'anno invece saranno tutti ammessi. Quindi l'anno prossimo occorrerà capire bene come organizzare il recupero degli apprendimenti. Ora vediamo però come si può valutare in itinere dopo aver cercato di dimostrare in tutti i modi che è importante e doveroso valutare in itinere per fornire feedback, per avere elementi per la valutazione finale, per capire da dove partire l'anno prossimo che cosa si può valutare e con quali strumenti. Le cose valutabili non sono molto diverse dai normali esiti di apprendimento, solo si tratta di capire in base alla rimodulazione di obiettivi che abbiamo fatto e agli strumenti che possiamo utilizzare che cosa nella nostra particolare situazione possiamo valutare. In teoria con la didattica a distanza possiamo valutare di tutto. Possiamo valutare conoscenze. Ora le conoscenze bisogna chiarirsi perché le conoscenze sono di vario genere. Ci sono conoscenze di elementi specifici, quindi regole, formule, luoghi, date. Ci sono conoscenze di procedure, cioè di algoritmi per svolgere una determinata operazione o attività. Ci sono le conoscenze concettuali, i concetti, che sono le conoscenze più importanti perché è sui concetti che si fondano le discipline. Quindi pensiamo a concetti classici della fisica, concetti classici della storia, il processo di colonizzazione, il concetto di stato e il concetto di nazione. Insomma le discipline sono fatte soprattutto di concetti. Le conoscenze si possono valutare, vedremo tra un po' come. Si possono valutare abilità, quindi vedere se lo studente è in grado di svolgere bene determinate operazioni applicando le conoscenze che ha acquisito. Si possono anche valutare competenze. Ora nei documenti, nelle prese di posizione che ho visto in questo mese, in genere si sostiene di andare oltre la valutazione delle conoscenze e di puntare molto a valutare le competenze. Con qualche precisazione però, perché spesso per competenze ho visto che si intendono solo le competenze trasversali. In realtà per competenza la letteratura intende qualcosa d'altro. Per competenza si intende l'utilizzo di conoscenze e abilità, la buona integrazione di conoscenze e abilità per affrontare problemi complessi. Quindi non solo competenze di tipo sociale, competenze riguardanti l'imparare e imparare, ma anche competenze linguistiche, matematiche, insomma più legate ad aree disciplinari. Conoscenze, molti dicono, ma nella didattica a distanza non fermatevi a cercare di verificare conoscenze specifiche. Cadreste un po' nella classica situazione scolastica del a domanda risponde, gli chiedete di riprodurre conoscenze mnemoniche. Ma personalmente penso che, insomma, le questioni possono essere viste anche in modo diverso. Può essere opportuno valutare conoscenze per vedere se lo studente le ha acquisite nel momento in cui sono necessarie per procedere ad apprendimenti ulteriori. Competenze e competenze ci sono sì le competenze di tipo trasversale, ma ci sono anche le competenze più legate alle aree disciplinari. Quelle che in molti documenti ho sentito denominare competenze, in realtà sono comportamenti che si poi tutti insieme concorrono a definire delle competenze, come vedremo tra un attimo. Ecco, quel che nel decreto legge viene definito processo formativo e la partecipazione al processo formativo sarà uno degli elementi che concorreranno alla valutazione finale. In cosa consiste? Ci possono essere tanti indicatori, io ne ho selezionati alcuni, poi, insomma, ne potete trovare anche altri. Comunque, i principali più ricorrenti sono questi, il tipo di partecipazione alle attività. Quindi, che tipo di presenza uno da presenza regolare, presenza saltuaria, presenza mancante, che tipo di impegno uno ci mette, la costanza, il rispetto delle scadenze. Altro indicatore è la collaborazione, quindi la disponibilità a dare aiuto, a mettere a disposizione materiali, nelle piattaforme si può anche lavorare per piccoli gruppi, o comunque è sempre possibile, insomma, mettersi a disposizione dei compagni. La auto-organizzazione, quindi la capacità di gestire il tempo, di pianificare gli impegni, l'imparare e imparare, di apprendere autonomamente, di fare esplorazioni, ricerche in proprio, la capacità di auto-valutarsi, di auto-correggersi. Ecco, sono tutti comportamenti che, da una parte, possono servire a valutare la partecipazione al processo formativo, che possono servire alla certificazione delle competenze, ma che possono servire anche a qualificare il voto, se dovremo, in sede di scrutinio finale, diversificare i voti. Di solito, già nelle rubriche di voto delle scuole, si vede che i voti più alti sono assegnati non solo se uno dimostra il possesso delle conoscenze, ma se dimostra anche capacità di utilizzo originale, autonomo, flessibile e così via. Tra l'altro, questi comportamenti sono connessi a quelle competenze chiave che sono, in genere, definite trasversali. A rigor di logica, tutte le competenze sono trasversali, però, insomma, nel linguaggio ordinario della scuola, di solito si ritengono competenze trasversali quelle che vedete lì elencate e che anche nei PCTO, nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, sono indicate come obiettivi delle attività dei PCTO. Nelle linee guida per i PCTO, allegate al Decreto Ministeriale 774 del 2019, c'è anche una tabella dove per ognuna di quelle competenze trasversali vengono elencate delle capacità che sono in gran parte riferibili a quei comportamenti che prima elencavo. Quindi la capacità di riflettere su se stesso, di gestire il tempo e le informazioni, di imparare a lavorare in modalità collaborativa. Insomma, una ragione in più per valutare sia gli esiti di apprendimento, sia questi comportamenti che poi sono indicativi del progresso in quelle competenze di tipo trasversale. E come si valutano tutte queste cose? Teoricamente ci sono tanti strumenti, poi bisogna vedere una scuola come è attrezzata. La nota 388 del Ministero ci diceva che didattica a distanza può essere diverse cose, quindi trasmissione ragionata di materiali didattici, ma con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente. Quindi non la semplice trasmissione di materiali e dire adesso studiate che poi verifico, ma materiali poi su cui lavorare. Attività di tipo interattivo su app o piattaforme di vario tipo. Per la valutazione il panorama ci presenta tutta una serie di possibilità. Conversazioni in sincrono, sia individuali sia di piccolo gruppo. Conversazioni meglio che interrogazioni. Qualcuno nelle linee guida date alla propria scuola ha inserito le interrogazioni, tra l'altro anche con una serie di raccomandazioni per evitare gli apporti esterni. Quindi accensione di fotocamera, fotocamera puntata sullo studente che deve guardare la fotocamera stessa e quindi si vede se invece gira lo sguardo alla ricerca di informazioni con Google magari sul telefonino o si vede se appare qualche familiare a dare suggerimenti. Conversazioni è meglio di interrogazioni. Quindi non l'interrogazione fatta da serie di domande un po' in stile poliziesco, ma una conversazione dalla quale possa emergere il possesso delle conoscenze, ma anche la capacità di collegarle, di fare argomentazioni, che tra l'altro è ciò che verrebbe richiesto anche nel colloquio d'esame. È possibile fare prove e test di vario tipo. Google Moduli, che è una delle piattaforme più all'interno del Google Classroom, che è una delle piattaforme più utilizzate, consente di farli, ma anche molte altre piattaforme o anche altre applicazioni consentono di produrre test di vario genere che poi, se non fatti direttamente in piattaforma, possono essere restituiti all'insegnante in altro modo, sulla piattaforma stessa o anche con altre modalità, anche attraverso WhatsApp o email e così via. Produzioni scritte di vario tipo, in asincrono, quindi saggi, relazioni su ricerche, esperimenti, schemi, video. Sono tutte produzioni che si possono fare in asincrono e poi riconsegnate ed esaminate dall'insegnante. Le competenze a loro volta sono rilevabili sempre con le stesse metodologie, solo che cambia il tipo di lavoro. Per rilevare una competenza io devo dare un compito più complesso. Quindi ecco relazioni dalle quali si vede la capacità argomentativa e la capacità di costruire testi coesi. Sto pensando ai quadri di riferimento per la valutazione della seconda prova nell'esame di Stato. Poi chiedono un po' queste cose, insomma, vedere se uno ha la padronanza disciplinare e se la sa esprimere attraverso la prova che gli viene data. Quindi commenti a testi dati. ecco un altro tipo di prova, il commenting viene denominato. Resoconti di ricerche, la costruzione di una mappa concettuale per vedere se uno padroneggia un determinato argomento, quindi se sa inserire i concetti al posto giusto, se sa collegarli in modo corretto. Oppure ancora laboratori virtuali, simulazioni di vario genere. Molto importante la discussione, l'esposizione in sincrono del lavoro svolto. Una conversazione potrebbe essere proprio sul lavoro svolto, in cui si capisce se lo studente veramente ha fatto tutto da solo e come ha ragionato per produrre quel documento. Autobiografie cognitive, quindi resoconti su cosa uno ha fatto, su quali aspetti ritiene importanti, su quali difficoltà ha incontrato, cosa ha fatto per superarle. Tutti questi sono modi per rilevare competenze e appunto non penso tanto alle competenze trasversali e sociali, che sono rilevabili attraverso l'osservazione, ma a competenze più disciplinari. Un elenco dei vari tipi di compiti svolgibili attraverso la didattica a distanza è contenuto in questo documento dell'indire, la scuola fuori dalle mura. Poi nell'ultima slide metto anche l'indirizzo web per recuperarlo. Ecco qui c'è una serie di compiti che è possibile svolgere nella didattica a distanza e che vanno scelti ovviamente in funzione dell'età. Ancora, le valutazioni nella didattica a distanza, valutazioni in sincrono, e qui c'è un elenco di quel che si può fare in sincrono, e valutazioni in asincrono, che riprendono un po' quegli elenchi che ho già fatto, ma insomma ho ritenuto di riportare anche questo passaggio del documento in dire. E infine, come si rilevano i comportamenti? Attraverso ovviamente le osservazioni dei comportamenti in sincrono e anche desumendo altre informazioni dalle attività svolte in maniera asincrona, quindi attraverso l'analisi della cura, del lavoro e così via. La formulazione delle valutazioni, tra l'altro vedo che mi stanno comparendo delle domande già su come formulare queste valutazioni, e su come annotarle nel registro elettronico. Dunque, per dare un giudizio su quanto rilevato, esistono vari criteri. Un criterio usuale è quello assoluto, quindi si stabiliscono criteri uguali per tutti, quindi il tal voto o il tal punteggio corrisponde a una certa caratteristica della prestazione. Un altro criterio è quello del riferimento alla media del gruppo considerato, quindi dato un gruppo di compiti, di solito nelle prove così di italiano al migliore si dà il massimo o quel che stabiliamo come tetto e gli altri vengono valutati di conseguenza. Ha il difetto questo che appunto può rendere incomparabili proprio le valutazioni perché dipende dal gruppo in cui si è capitati. E poi c'è il criterio dell'avanzamento rispetto al livello di partenza individuale. Ora, anticipo che in questa fase può essere opportuno utilizzare il primo e l'ultimo criterio, quindi da una parte far capire allo studente a che punto si trova rispetto a un criterio che renda comparabile la sua situazione con quella degli altri, ma anche far notare quello che può essere stato il tipo di conquista individuale. Se noi utilizziamo solo il criterio assoluto rischiamo di dover dare un bel po' di valutazioni negative e quindi pur facendo presenti i problemi che una certa prova può aver manifestato, è opportuno anche in chiave proattiva far capire qual è l'avanzamento rispetto al livello di partenza individuale. Allora, alla fine, insomma, quali sono le attenzioni da curare? Non utilizzare la valutazione in modo sanzionatorio e scoraggiante. Far capire che si valuta con lo scopo di aiutare, con lo scopo di far crescere. responsabilizzare gli allievi, gli studenti, questi sono grandi, non sono con i bambini della scuola primaria dove prevale molto l'aspetto così formativo di incoraggiamento. Responsabilizzarli facendo presente che anche se siamo in didattica a distanza, alla fine, secondo il decreto legge, la valutazione dovrà tener conto dei risultati di apprendimento in base alla valutazione svolta. Si terrà conto del processo formativo, quindi della modalità di partecipazione. Un esame di Stato ci sarà comunque anche con adattamenti. Anche se tutti sono ammessi alla classe successiva, nei prossimi anni bisognerà dimostrare di aver raggiunto gli apprendimenti, quindi perché perdere adesso l'opportunità di apprendimento? E comunque l'apprendimento è una risorsa per la propria realizzazione personale. Insomma, il classico studia per te, che è per te che facciamo tutto questo e non per altre motivazioni. È possibile usare voti? Ebbè certo, non è vietato dare voti. Quindi ho visto molte scuole che nelle loro linee guida hanno creato delle griglie dove è previsto un giudizio di insufficiente, sufficiente, insomma, sulla solita scala o anche dei voti. Però in questa fase molti consigliano di utilizzare giudizi, anche perché noi non sappiamo come ci si chiederà di fare la valutazione finale. Quindi da una parte dobbiamo acquisire elementi provanti per fondarla, ma al tempo stesso, non sapendo come sarà, insomma, è meglio non rimanere ingabbiati dalle classiche medie aritmetiche. Quindi preferibilmente usare giudizi. Giudizi che possono essere formulati tenendo presenti le varie funzioni della valutazione. Quindi gli apprendimenti che uno ha dimostrato di aver raggiunto mediante la prova o la prestazione richiesta. La valutazione dei punti forti. La segnalazione dei punti deboli. Perché alla fine il giudizio finale dovrà essere coerente con le valutazioni in itinere. Quindi i punti deboli li segnalo. Certo, non in maniera scoraggiante, cioè qua è tutto sbagliato, qua non hai capito nulla, ma segnalando che nella tal prova ci sono delle acquisizioni da sottolineare, ma ci sono anche degli aspetti che, insomma, sono dei punti deboli e suggerendo come migliorarli. E infine anche annotando qual è stato il comportamento partecipativo realizzato. Quindi alla fine, ripeto, si possono attribuire i voti. Certo non è vietato, però attenzione che usare il voto può avere tutta una serie di controindicazioni poi rispetto al giudizio, rispetto alla valutazione finale. Insomma, la maggior parte finora di coloro che hanno ragionato su questo argomento consigliano di utilizzare dei giudizi. Ci sono diverse griglie che sono state... Ah, ecco, mi si chiede, i registri elettronici prevedono numeri, come possiamo registrare i giudizi? Ma io ho visto scuole che hanno consigliato di registrare nella sezione agenda del registro elettronico. Adesso non so i vari modelli di registro elettronico in uso, però ci sono scuole che hanno consigliato di registrare il giudizio usando il registro elettronico come strumento di comunicazione più che come strumento usuale, insomma, dove registrare i voti su cui poi si farà la media. Qualcuno dice, ma se io ho sempre dato voti per valutare le competenze, perché non dovrei farli adesso? Ma io, ripeto, non sto adesso indicando delle soluzioni dogmatiche, sto rappresentando quello che è l'insieme di elementi desumibili dal dibattito attuale. Quindi i voti uno li può anche dare e poi fare la media ponderata e non la media aritmetica. Ma adesso valutiamo cosa è opportuno fare data questa situazione. Ora, data la situazione, ripeto, dato anche il fatto che, adesso io non so nelle varie classi quanti siano gli studenti che non hanno potuto accedere pienamente alla didattica a distanza e così via, allora si tratta di utilizzare tutta una serie di attenzioni. Quindi, punto, il consiglio è quello di accompagnare sempre l'esito della prova con un giudizio. Qualcuno dice, ma io posso dare voto e giudizio? Beh, certo, l'importante è che non sia un voto secco. Vi ricordate il feedback debole? Il feedback debole dice, beh, hai preso questo voto, punto. L'importante invece è che ci sia una funzione formativa e proattiva dove uno valorizza gli aspetti positivi e anche segnala quali sono i punti deboli e da migliorare. Ecco, nell'ultima slide io presento anche una serie di indirizzi web dove potete trovare gli indirizzi di scuole che hanno creato griglie, rubriche apposite per far vedere come hanno ragionato. Poi, ognuno è chiaro che si deve costruire le proprie rubriche e come ho detto prima, è opportuno che i criteri di valutazione vedo una domanda in questo senso siano poi preliminarmente deliberati a livello di collegio naturalmente a livello di collegio telematico perché in presenza adesso non si può andare e probabilmente non si potrà andare visto che la valutazione deve essere trasparente e i criteri vanno dichiarati prima quindi un passaggio di collegio ci vuole. Quindi, insomma, si tratta, ripeto, di mettere insieme valutazione formativa proattiva e preparazione della valutazione sommativa attraverso questi accorgimenti. E cosa fare appunto delle valutazioni? Restituirli in funzione formativa annotare in attesa delle ordinanze ministeriali sulla valutazione finale annotare come e appunto ho visto tante soluzioni tanti pensano anche di annotare non sul registro elettronico ma la maggior parte dice no, usiamo il registro elettronico che è lo strumento anche formale di comunicazione con la famiglia però facciamo presente che si tratta di una valutazione fatta in situazione di didattica a distanza in situazione di sospensione dell'attività in presenza per situazione di emergenza in modo da attribuire il valore situazionale a queste valutazioni quindi lo studente riceve la famiglia riceve l'esito della prova ma un esito che non sia solo punto di voto secco ma che sia accompagnato da un giudizio o che sia anche costituito da un solo giudizio poi si vedrà l'ordinanza ministeriale che cosa dirà circa la valutazione finale tutto questo poi servirà anche per riprogrammare il recupero nei prossimi anni dicevo prima che ci sono una serie di siti che possono essere utili sul sito dell'Indire è stato pubblicato un documento delle avanguardie educative alla scuola fuori dalle mura con tutta una serie di indicazioni sulla didattica a distanza e sulla valutazione a distanza sul sito dell'IPRASE di Trento sono presenti degli interventi video registrati di relatori vari sia sulla didattica a distanza sia sulla valutazione a distanza nello specifico per il primo ciclo e per la scuola secondaria di secondo grado sul sito della rivista online della Tecnodiv la scuola 7 l'indirizzo che lì riporto c'è un intervento di Alessandra Rucci di Ancona sugli strumenti utilizzabili per la valutazione a distanza e poi indico i siti di due licei il liceo di Aprilia e il liceo Bertolucci di Parma anche lì con delle linee guida sulla valutazione nella didattica a distanza e anche con griglie nel sito del liceo Bertolucci ci sono anche delle rubriche valutative sia sugli aspetti trasversali sia sulla valutazione delle singole prove che possono essere utili per capire cosa è stato fatto in altre scuole poi come dicevo non ci sono indicazioni dogmatiche questo si può fare e questo non si può fare c'è solo una serie di riflessioni su cosa è sensato fare in una situazione come questa dove appunto non abbiamo una normativa ad hoc ma dove bisogna cercare di capire cosa può essere sensato fare dal punto di vista psicologico dal punto di vista didattico e anche dal punto di vista normativo tenendo presente la normativa che c'è è quella che è in fase di elaborazione col nuovo decreto legge quindi ogni scuola ha una certa flessibilità anche in base alla situazione degli studenti che ha al tipo di didattica a distanza agli strumenti che ha utilizzato al tipo di competenze dei docenti perché bisogna vedere poi che cosa si è in grado di fare a seconda delle competenze disponibili presso i docenti e da lì cavarne fuori la sintesi più sensata ecco quindi siamo giunti con questo alle 17 e 38 e vedo appunto diverse domande penso di aver risposto a tutto anche man mano che arrivavano vediamo se ce n'è qualcuna a cui non ho risposto una domanda è questa è consigliabile effettuare una media tra il voto di una prova scritta a distanza e il comportamento dello studente durante le lezioni online uno studente può essere bravo ma comportarsi male conviene dunque tenere distinte le due cose ma più che il voto appunto si può dare un giudizio si può dire guarda la tua prestazione vale tot ma attenzione che la tua partecipazione è stata così qui e siccome nella valutazione finale dovremmo tener conto anche dalla valutazione te lo segnalo così ti regoli per la prossima volta ecco qualcuno mi chiede potrebbe approfondire la sezione dedicata alla valutazione del comportamento ecco attenzione che io parlo di comportamenti riferiti a competenze trasversali quindi quei comportamenti che ho citato sono comportamenti relativi al processo formativo e alle competenze di tipo trasversale quindi competenze sociali competenze sull'imparare e imparare e competenze di tipo imprenditoriale alcuni aspetti servono anche alla valutazione vera e propria del comportamento che però è altra cosa insomma perché poi nel comportamento ci mettiamo anche rispetto la valutazione del comportamento di solito è riferita al comportamento in classe quindi rispetta le regole di vita della classe rispetta i compagni rispetta gli insegnanti a cura degli arredi e così via quindi qui ci sono solo alcuni aspetti che poi possono entrare nella valutazione del comportamento tra l'altro vedremo cosa ci diranno poi sulla valutazione del comportamento in senso stretto qui intendiamo comportamento come tipo di partecipazione alle attività a distanza quello che nel decreto legge chiamano partecipazione al processo formativo e comunque ecco questi aspetti è opportuno segnalarli probabilmente non incidono sulla valutazione della prestazione in sé possono incidere sulla valutazione finale e possono essere segnalati nelle singole valutazioni in itinere nel giudizio accanto al giudizio sulla prestazione come dicevo se dovessi valutare io darei un giudizio sul tipo di prestazione e quindi sugli apprendimenti che quella prestazione rivela sul tipo di aspetti da migliorare e sul tipo di partecipazione quindi darei tre giudizi che insieme potrebbero costituire un giudizio complessivo oppure qualcuno dice do il voto sulla prestazione e poi il resto lo do come giudizio insomma le modalità sono tante qualcuno mi chiede quando uscirà l'ordinanza ministeriale che definisce le varie questioni questa è una bella domanda una bella domanda perché chi lo sa dipende da moltissime cose anche sui decreti in generale sui decreti del governo sull'apertura o meno sulla fine del lockdown insomma vedete che ci si va con molta prudenza valutando giorno dopo giorno i dati quindi credo che anche le ordinanze ministeriali aspetteranno di vedere almeno maggio come si profilerà la situazione certo che prima si sa meglio è quindi qui sono in gioco due interessi diversi insomma l'interesse di chi insegna e di chi dirige le scuole a capire per tempo come sarà questa valutazione finale e organizzare quelle itinere di conseguenza chi deve prendere la decisione invece ha tutto l'interesse a tenere d'occhio l'andamento della situazione epidemica può essere ragionevole pensare a maggio quando si capirà se c'è una qualche lontana possibilità di rientro in classe o se questa non c'è quindi vediamo ecco quale peso dare a ciò che è stato fatto a fine febbraio è uno degli elementi fino a fine febbraio le cose fatte fino a fine febbraio hanno un'alta attendibilità perché sono state fatte in classe in situazione completamente controllata quindi quella sarà una buona base per la valutazione finale perché quella è indiscutibile è stata fatta secondo i criteri ordinari quindi ciò che è stato fatto nei primi cinque mesi sarà molto importante poi mi si chiede dice di fronte ad alunni che presentavano molte insufficienze a febbraio che mezzi abbiamo noi per non regalare la sicura ammissione l'ammissione all'anno successivo è prevista per tutti quindi a meno che uno sia stato assente per tutto il primo quadrimestre ma insomma da quanto si è capito l'ammissione sarà per tutti perché è difficile dire a uno non ti ho dato l'occasione in presenza di recuperare le insufficienze adesso dico io l'ordinanza non c'è ancora però da quel che si è capito l'ammissione ci sarà per tutti poi si vedrà l'anno prossimo è certo che ogni ogni soluzione ha i suoi contro perché anche ammettere uno già candidato magari alla bocciatura l'anno prossimo perché avevi insufficienze gravi però trovare un criterio che vada bene a tutti non si può quindi qualsiasi decisione che si prenda avrà delle controindicazioni ora qualcuno dice la sostituzione del voto col giudizio potrebbe essere demotivante con alcuni si può utilizzare sia il giudizio che il classico voto numerico sì anche questa è una soluzione ripeto dipende un po' da che classi avete da che studenti avete quindi alla fine sarà vostra la scelta ha senso registrare le assenze alle lezioni in DAD ma ho visto molti che hanno disposto certo la registrazione delle assenze ma anche qua non in chiave punitiva ma in chiave documentativa poi si vedrà perché uno era assente se era assente per scelta sua o se era assente perché non aveva gli strumenti per collegarsi adesso tutto quel che registriamo sono registrazioni di cui poi capiremo l'utilizzo l'utilizzo legale ecco c'è un altro problema sono i candidati esterni la proposta di rinviare a settembre non mette a rischio il principio dell'equità qui le soluzioni sono quelle del legislatore quindi noi non possiamo non possiamo fare altro che prendere atto c'era una domanda precedente interessante che diceva ma come posso fare nella didattica a distanza a preparare gli studenti a un colloquio d'esame ed è facendo proprio quello che il colloquio d'esame chiede cioè fare esposizioni orali che colleghino più più conoscenze rispetto a un argomento dato e che abitino ad argomentare e non a ripetere insomma così mnemonicamente la lezione cina imparata memoria quindi facendo proprio esposizioni orali su tematiche diverse invitando proprio a mettere in connessione conoscenze appartenenti ad aree disciplinari diverse è proprio uno uno degli strumenti per rilevare le competenze non solo le competenze nell'uso dell'italiano ma anche competenze disciplinari perché se uno mi argomenta in una questione scientifica o in una questione storico geografica o che metta insieme tutte queste aree mi dimostra anche la competenza disciplinare bene ci sono altre domande che mi sono sfuggite se ci sono segnalatemele altrimenti non resta che dire vabbè partiamo da queste cose che ci siamo detti pensando che da qui a giugno tante altre se ne diranno arriveranno indicazioni ministeriali ci saranno esperti che faranno proposte quindi continuare a seguire l'argomento grazie dottor cristianini come sempre chiaro e lungimirante anche in una lettura di quello che in una situazione emergenziale possiamo fare io ringrazio a nome di tutti dottor cristianini e contiamo ancora nel suo aiuto in questo cammino e vedremo le modalità come già anticipato da domani pomeriggio il materiale sarà inserito sul sito della FIDE e poi sicuramente presto faremo anche altri aggiornamenti grazie ancora dottor cristianini grazie a tutti per la partecipazione e buona serata a tutti grazie